Entra nel mondo l'olato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Previsioni del tempo per venerdì 11 novembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile. Ampio soleggiamento su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime in calo sui 6-11 gradi. Massime intorno ai 15-18 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia bel tempo senza piogge. Prevarrà il sole. Cielo sereno o velato. Temperature minime tra i 7 e 11 gradi. Massime intorno ai 16-18 gradi. Sul Trentino Alto Adige bella giornata ampiamente soleggiata. Possibili locali addensamenti ma senza conseguenze. Temperature minime e comprese tra 3 e 6 gradi. Massime sui 16-18 gradi. Dal meteo è tutto. Arrivederci. Entra nel mondo lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.